ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi farò mangio per 24 ore solo rosso per colazione mangerò una maceronia con fragole, uva, lamponi, mele poi pranzo mangerò riso rosso con una passata di pomodori con peperoni per colazione merenda mangerò il pane rosso che ancora con la mamma dovremmo preparare con la marmellata, una marmellata di fragole infine per cena mangerò i pomodori con, non ho ancora deciso grazie a tutti 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 grazie a tutti